Grazie a tutti. Doveva arrivare una perturbazione dopo il 15 di gennaio, pertanto noi speriamo che in quella settimana 15, 17, 18 potrebbe essere la volta buona. E la Fisi, gli atleti come fronteggiano questa emergenza caldo? Come vi preparate? L'emergenza noi l'avevamo un po' preventivata perché c'è il fatto che le gare le abbiamo messe proprio in calendario a partire dalla prima settimana di febbraio, pertanto il caldo siciliano noi ce l'aspettavamo. Problemi non soltanto per chi si deve allenare ma anche per l'economia. Tutto l'indotto trae delle conseguenze negative perché non essendoci la neve nel periodo giusto sicuramente c'è un indotto che non si muove. Gli albergatori, i noleggi, i negozianti di articoli sportivi, c'è tutto quello che si muove attorno a questo mondo della neve sicuramente in questo periodo è molto penalizzato.